E io vengo a mangiare dal mio amico Sheikoko, esco fuori e te vedo carattrezzi, carattrezzi, oddio che succede, carattrezzi, ci sono cose che anche i carattrezzi rispettano, le cose belle, i carattrezzi le rispettano, guarda se ne va via, se ne ha niente i carattrezzi, stiamo senza XJ o paga, spettacolare, spettacolare, io lui già lo amo, lui ha vinto, lui ha vinto perché fanno tutti i fenomeni con queste Porsche, con queste Ferrari, lui ha preso un XJ, Che dici? Ce lo deve stare male? È male eh? Male 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 no eh? Cioè questo ha vinto, a me piace da impazzire, maschio è in vendita? Maschio è in vendita? Non me la vende, non me la vende, ci sono cose che i soldi non possono comprare, le passioni, viva la vita!